Stai sul pavimento e non sulla passarella. Sono gli appelli che Gentù Cabini, stilista di Romeo Gigli, fa alle sue modelle per farle sfilare con un atteggiamento molto dinamico, molto naturale, molto normale. Un premio Nobel alla sfilata di Romeo Gigli disegnato da Gentù Cabini. Cosa ci fa un premio Nobel dietro le quinte tra modelle e vestiti? Sono il tutor, il tutore superiore maggiore. Sono quello che dà la loro forza, che evita di fare molte critiche, se le fa gentile. Poi l'entusiasmo, io do l'entusiasmo, il mio entusiasmo a loro. So che siete vicini di casa. Sì, abbiamo già fatto l'altro film insieme. Insomma, io dico che la cosa più importante che lei deve fare vedere è lo spirito straordinario che sa esprimere. Se il pubblico riesce a capire questo spirito, lei salva la vita, la moda, tutto. Romeo Gigli farà molte iniziative in internet. Cosa pensa Dario Fodi di questa nuova dimensione? Cioè dell'internet come mezzo di espressione. Beh, è nuovo. È il futuro. E se anche lì... Noi vedremo tutto attraverso l'internet fra poco. Faranno anche i mercati, si faranno le lezioni, si terranno le storie d'amore. Vere, reali, non le finte. E bisogna che ci abituiamo. È un po' come quello che è successo con la macchina da scrivere. A un certo punto è sparita. Sparirà anche la logica del mercato di oggi. In modo di concepire così la presenza è soprattutto l'attenzione al giudicare le cose che vengono proposte. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.